Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Se sei finito su questo canale è perché sicuramente stai cercando dei nuovi pasitos, nuove figure oppure semplici tecniche o argomenti per quanto riguarda il mondo della salsa. Per cui oggi voglio darti 5 consigli per migliorare la tecnica di salsa. Siccome non saranno affatto scontati i nostri soliti 5 consigli che hai già visto in altri canali o che magari anche io ho già fatto in passato, voglio da te una cosa importante, che schiacci quel benedetto tasto like, ti iscrivi al canale per rimanere aggiornato sui futuri video che andrò a pubblicare se non li hai ancora fatto e lascia un commento per suggerirmi quelli che sono gli argomenti che più ti interessano. Ho un sogno nel cassetto che è quello di arrivare a 5000 iscritti entro la fine del 2023, quindi ti chiedo di darmi la mano con queste semplici azioni. Bene entriamo nel vivo dei 5 consigli che voglio darti. Se non mi conosci già io sono Luigi Marchese, ballerino e insegnante di danze caraibiche e assieme a Simona abbiamo fondato un'accademia interamente online che si chiama Salsa Pro Academy, la scuola di pallo sempre a portata di mano che potrai utilizzare dove e quando vuoi tu, per studiare nuove tecniche, passitos, figure sia di salsa che di baciata, sia se sei un principiante che se sei un avanzato e far crescere sempre più il tuo livello di pallo. Consiglio numero 1 lavora sul giusto assetto del corpo. Spesso parliamo di postura ma in realtà la postura è qualcosa di generale. Ho anche realizzato una video lezione per quanto riguarda la postura di salsa puoi andarla a rivedere cliccando qui sopra. Quello in cui invece devi prestare attenzione è l'assetto del tuo corpo che devi avere in relazione allo stile ballato. Ad esempio quando balli salsa se stai eseguendo un passo di rumba sicuramente il tuo assetto del corpo è diverso quando vai ad eseguire ad esempio un passo del son. Infatti quello che dà la diversità al tuo passo sono proprio gli assetti del corpo più che il passo in sé. Anche perché il passo può essere eseguito con dinamiche diverse come abbiamo visto nella scorsa lezione dell'apertura paratras che puoi trovare sempre cliccando un tasto qui sopra. Secondo consiglio concentrati sulle transizioni tra i passi. Spesso ci concentriamo troppo sul passo in sé e tralasciamo quindi la transizione tra un passo e l'altro. Per migliorare la tua tecnica cerca di rendere queste transizioni fluide e armoniose. Per transizione possiamo intendere due cose distinte e separate. La prima è il passaggio tra un singolo passo e l'altro. La seconda è il passaggio tra un tipo di passo specifico ad un altro. La prima transizione ad esempio quindi una base alternata quindi il passaggio tra il primo e il secondo passo quindi in mezzo al primo e secondo passo c'è un tempo e c'è anche una tecnica ben specifica da attuare. Quindi partendo ad esempio in una base alternata andiamo a sviluppare il movimento per il passo successivo. Ho anche parlato di tecnica e di come andarla a sviluppare all'interno di una delle varie puntate di Salsa Report Newsletter. La nostra newsletter che potrai ricevere quindi ogni settimana all'interno della tua casa e l'email. Per iscriverti in maniera gratuita e ricevere altri contenuti di valore ti lascio il link in descrizione. Fammi sapere se sei già iscritto e iscritta alla newsletter e se hai ricevuto l'email mi hai trovato interessante. Ad ogni modo non mi soffermo molto sulla spiegazione tecnica perché all'interno di Salsa Pro Academy ci sono vari contenuti per quanto riguarda appunto la tecnica di salsa e dei video training che puoi seguire. Invece il secondo tipo di transizione ovvero il passaggio da un tipo di passo ad esempio da una base alternata a una base di rumba in questo caso devo cambiare la postura e l'altezza del corpo. La dinamica di movimento esattamente proprio quello che dicevamo prima sui assetti del corpo. Quindi il nostro assetto deve cambiare in correlazione al tipo di stile di ballo o di passo che vogliamo utilizzare. Terzo consiglio non trascurare l'importanza dell'isolamento del tuo movimento. L'isolamento del movimento significa separare e controllare le varie parti del corpo che si muovono ad esempio in un passo specifico. Ad esempio puoi isolare e capire come si muovono in maniera specifica il bacino, il movimento delle spalle, il busto o in generale anche il movimento delle braccia. Quindi allenarti a isolare il movimento di ogni parte del corpo migliora anche quello che il tuo ballo in generale e ti rende più preciso nei movimenti. Quarto consiglio prova ad eseguire i passi con ritmi diversi. Concentrati sui passi base all'inizio quindi prova ad esempio un su CQ o un 3 stress cercando di renderli più veloci, più lenti o praticamente utilizzando un timing diverso. Per timing intendiamo proprio il tempo in cui vai ad eseguire il passo. Quindi ad esempio un esercizio che noi facciamo all'interno dei nostri corsi è proprio quello di andare a eliminare la pausa e di ballare tutti i passi uno successivamente all'altro senza pause. In tal modo ovviamente poi è necessario diventare padroni di questo tempo che è di questo cambio ritmico per poi trovarti ovviamente a ricominciare ad esempio con una base il passo a tempo oppure ovviamente se stai ballando contro tempo quindi appunto in contro tempo. Quindi il lavoro che devi fare semplicemente metterti lì è iniziare a utilizzare i passi base cambiando appunto i tempi. Puoi ad esempio utilizzare il passo senza la pausa oppure puoi raddoppiare la velocità quindi seguire un passo in mezzo tempo. Così ad esempio da seguire due passi in un tempo intero. Questa cosa che sto dicendo ovviamente è già per chi è di un livello più avanzato quindi non ti spaventare assolutamente se stai iniziando ora a ballare o se non hai mai ballato in vita tua. Se finisci in questo video in questo momento del tuo percorso e stai ancora all'inizio ovviamente lascia stare questa parte ma magari prendi quello che in realtà sono le altre parti di questo video. Quinto e ultimo consiglio lavora sulla tecnica del leading and following. Non sono due brutte parole ma sono semplicemente il modo inglese di chiamare le guide. In una coppia c'è sempre colui che guida ed è il cavaliere e c'è anche una persona che segue che ovviamente è la dama. Quindi sviluppare una maggiore capacità di guidare la dama e ovviamente per le dame di seguire la guida dell'uomo. Ciò richiede ovviamente una maggiore comunicazione all'interno della coppia, alla coordinazione dei movimenti, all'ascolto preciso e perfetto della musica. In questo modo creerai una danza armoniosa e piacevole da guardare ma in generale perché poi alla fine lo scopo del ballo ti divertirei maggiormente col tuo partner perché appunto sarà in simbiosi con lui. Questi erano i miei 5 consigli che sentivo di darti per quanto riguarda il miglioramento sulla tecnica di salsa. Spero che ti siano stati utili. Lascia un like se questo video ti è piaciuto e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Come sempre ti invito a lasciare un commento perché per me è importante. Continua a seguirci all'interno di questo canale Salsa Pro Academy e ci vediamo al prossimo video.